Buongiorno e ben ritrovati negli studi di Ippocrate, la medicina come professione. Oggi dedichiamo questa puntata all'emofilia. In Italia ne soffrono circa 5.000 persone e sono oltre 32.000 se si guarda all'Europa, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di una malattia rara di origine genetica e l'emofilia è legata alla coagulazione del sangue e colpisce soprattutto i maschi perché il suo messaggio genetico è associato al cromosoma X. Le donne possono essere però portatrici sane di questa patologia. La SIOT, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, si sofferma sul ruolo dell'ortopedico nel trattamento dei pazienti emofilitici e sulle complicanze ortopediche che possono derivare da questa patologia. Ma vediamo ulteriori dettagli nel servizio che abbiamo preparato per voi. In Italia soffrono di emofilia circa 5.000 persone, oltre 32.000 in Europa, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Malattia rara di origine genetica, l'emofilia è legata alla coagulazione del sangue e colpisce soprattutto i maschi perché il suo messaggio genetico è associato al cromosoma X. Le donne possono essere però portatrici sane. L'emofilia può causare importanti patologie a livello articolare, come ad esempio l'artropatia emofilica, una complicanza che è estremamente invalidante. Le emorragie articolari, infatti, possono danneggiare la cartilagine dei tessuti spugnosi molli presenti nelle articolazioni e la sottile membrana che li riveste. Il ruolo dell'ortopedico deve essere quello di monitorare il paziente insieme all'ematologo e a tutti coloro che fanno parte del suo percorso di cura, seguendo nell'evoluzione e mantenendo sotto costante controllo quelli che sono gli stati degenerativi delle cartilagini. Esistono vari tipi di emofilia. La A è la forma più comune ed è dovuta ad una carenza del fattore 8 della coagulazione, presente in un caso ogni 10.000 maschi. La B è provocata dalla carenza del fattore 9 della coagulazione e colpisce un individuo ogni 30.000 maschi. La C, molto più rara, è causata dalla mancanza del fattore 11. Il gene che codifica le informazioni per la produzione del fattore 11 è localizzato sul cromosoma 4, mentre per l'emofilia A e la B il gene è localizzato sul cromosoma X. L'emofilia di tipo C riguarda indistintamente maschi e femmine. Allora, per capire più a fondo qual è il ruolo che l'ortopedico ha per la cura e il trattamento del paziente con emofilia, ci colleghiamo con il nostro ospite di quest'oggi, il professore Cristian Carulli, coordinatore del Comitato Scientifico per l'Emofilia della SIOT, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia. Benvenuto, professor Carulli. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, effettivamente, praticamente, che cosa fa l'ortopedico per un paziente affetto da emofilia? Perché è importante, quindi, che faccia parte del team multidisciplinare che si occupa della cura di questi pazienti? Allora, consideriamo che è sempre stata considerata l'emofilia una patologia di pertinenza ematologica, che tecnicamente è vero, perché i pazienti hanno una sindrome emorragica e quindi tendono al sanguinamento. E questo poteva essere ancora più vero una volta quando i pazienti purtroppo avevano decessi frequenti o gravi problematiche di salute legate ai sanguinamenti degli organi nobili. Quando è arrivata sul mercato una terapia farmacologica adeguata e poi quando si è sviluppata la terapia sostitutiva, cioè l'infusione periodica di fattore ematologico, molti problemi di mortalità si sono risolti. Cos'è che è rimasto all'epoca e cos'è che rimane tuttora? Il danno articolare, quindi il sanguinamento nelle articolazioni che è precoce, abbiamo detto riguarda soprattutto i bambini maschi, quando iniziano a camminare, quindi intorno all'anno di vita, purtroppo questo determina delle alterazioni irreversibili che molto precocemente portano a una funzione articolare molto compromessa. Ed è qui che l'ortopedico ha assunto un ruolo nei decenni sempre più importante, tant'è che oggi è bene considerata una malattia più ortopedica che ematologica, perché i bambini con la diagnosi precoce iniziano subito il percorso terapeutico, ematologico, però devono essere sorvegliati dal punto di vista ortopedico per quanto detto. Per dirlo in parole molto semplici, in effetti grazie alla ricerca scientifica, al progresso della scienza, oggi i trattamenti permettono di condurre una vita, però è sulla qualità di questa vita che dobbiamo agire. E quindi l'ortopedico ha un ruolo importante proprio da questo punto di vista, insomma da quello che mi è parso di capire dalle sue parole. E quindi di fatto prende in carico il paziente subito, appena arriva la diagnosi? Esattamente. Una delle cose che abbiamo imparato è la visita periodica, che hanno sempre fatto gli ematologi. Gli ematologi periodicamente, anzi più volte l'anno, da bambini e poi anche da adulti, una visita annuale quanto meno, abbiamo iniziato a fare noi ortopedici la stessa cosa, prendere in carico questi bambini e seguirli periodicamente, perché la diagnosi precoce è la chiave del successo, perché danni articolari ci sono. Dobbiamo semplicemente mantenerli di via d'entità. Di che tipo di danni articolari possiamo parlare, facendo magari anche qualche esempio concreto di un paziente, e soprattutto quali sono le soluzioni che si possono adottare per migliorare la qualità di vita che è al centro della nostra conversazione quest'oggi? Esattamente. Il bambino, abbiamo detto, intorno all'anno di vita, tra i 10 e i 15 mesi inizia a deambulare. Fa le prove tecniche di statica retta, quindi di posizione retta, e poi ovviamente può cadere, può avere delle contusioni. È normale, tutti l'abbiamo fatto, l'abbiamo vissuto. La faccenda è che il bambino con emofilia può avere dei sanguinamenti. Questo sanguinamento determina, soprattutto in ginocchia, caviglie e gomiti, delle infiammazioni. C'è una struttura che si chiama sinovia e si crea quindi la sinovite, che è l'infiammazione, che non sempre è, come si dice, sintomatica, cioè non sempre i bambini quantomeno riescono ad esprimere il dolore e i fastidi legati a questa infiammazione. Se questa si instaura e non viene prevenuta, è diagnosticata e prevenuta, e il problema va avanti e quindi l'articolazione degenera. Quindi la qualità di vita passa dalla prevenzione proprio della sinovite, e laddove ci sia la sinovite che non si può prevenire, però di evitare che proceda in artropatia, quindi nella degenerazione della struttura articolare. Quando siamo di fronte a bambini molto piccoli, che come lei giustamente stava raccontando, cominciano a mettersi in posizione retta, poi a camminare, i controlli immagino debbano essere un po' più frequenti? Quanto? Allora, diciamo che non esiste una ricetta specifica, però sicuramente noi almeno, parlo da ortopedico, almeno due volte l'anno li vediamo, almeno in età pediatrica. Poi dobbiamo considerare i traumi, che ripeto, nei bambini, ma anche nell'adolescente, che inizia a fare magari sport e sono frequenti. Per cui a questo dobbiamo sempre aggiungere le varie eventuali, quindi l'eventuale visita, l'eventuale valutazione in pronto soccorso dopo un trauma, perché questi soggetti sono particolarmente a rischio di avere un ginocchio gonfio, una caviglia gonfio. La valutazione dell'ortopedico quindi può essere di monitoraggio o addirittura, come ci spiegava, può essere necessario un trattamento laddove viene riscontrato che c'è effettivamente un problema. E in quel caso, quando si deve intervenire, che cosa si fa? È un intervento farmacologico? Allora, sono cambiati i tempi fortunatamente. Fino a 20-30 anni fa, purtroppo, si prendeva atto dei danni articolari e si, come si dice, si ghettizzavano i pazienti, si imponeva ai pazienti e alle famiglie di non fare neanche sport. Per cui erano bambini che non giocavano con gli altri bambini, oppure andavano soltanto in piscina a nuotare, non potevano fare altre attività. E si faceva uso di farmaci molto semplici che però lenivano il dolore, ma non certo curavano la problematica. Negli ultimi decenni si sono sviluppate tantissime tecniche, e non solo strettamente ortopediche. Abbiamo il rinforzo muscolare, quindi sia lo sport, ovviamente commisurato e sartorializzato sul paziente. Non tutti i pazienti emofilici, soprattutto gli A con deficit grave, possono fare un certo tipo di sport, ma ci sono per esempio gli emofilici B, che hanno un deficit modesto, che possono permettersi un più ampio spettro di sport. Oppure abbiamo l'uso di tutori, il ricorso a fisioterapia, quindi anche i fisioterapisti hanno assunto un ruolo primario. E poi abbiamo una serie di strategie non invasive, come per esempio le infiltrazioni. Quindi diciamo terapia farmacologica, fisioterapica, preventiva, quindi di mantenimento dell'attività fisica, sono i primi approcci. Detto tutto questo, che negli ultimi 20 e 30 anni quindi è migliorato l'approccio, ci sono dei trattamenti, c'è un approccio anche multidisciplinare, perché insomma spiegava che c'è il fisioterapista, si può fare dello sport magari commisurato, mirato, eccetera. Immagino che ancora non sappiamo quale può essere la qualità di vita di questi pazienti, in terza età, perché se parliamo di 20-30 anni fa, probabilmente i primi pazienti oggi avranno appunto 30-35 anni. Ma quali sono le aspettative? Cioè che cosa pensate che potranno ottenere questi pazienti nell'età adulta e poi quando saranno anziani manterranno una certa qualità di vita? Assolutamente, questo è uno degli aspetti chiave, dottoressa, perché abbiamo la fortuna oggi di assicurare una qualità di vita e una durata della vita media dei soggetti con emofilia, analoga a quelli dei soggetti non emofilici, quindi al soggetto standard della generazione, della popolazione generale. Questa è una cosa importante. Perché questo? Perché anche se non riusciamo a prevenire il danno, però comunque possiamo assicurare una qualità di vita valida anche grazie alla chirurgia. E questo è un aspetto importante. Una piccola finestra, purtroppo negli anni 80, prima degli anni 80, come ricorderà, c'è stato l'avvento della diagnosi dell'HIV e delle epatiti. Purtroppo una delle soluzioni all'epoca era il ricorso a trasfusioni di sangue, soprattutto in caso di emorragie di organi nobili. Molti pazienti di quella generazione, purtroppo non ci sono più, non per l'emofilia di per sé, ma le malattie infettive trasmesse tramite le trasfusioni, in particolare l'HIV e le epatiti. Anche da questo punto di vista, oggi abbiamo fatto passi in avanti, per cui praticamente l'HIV si può tenere a bada, senza avere i decessi o le complicanze. Le epatiti non sono più in problema perché addirittura possiamo sostanzialmente eradicarle, per cui la qualità di vita è ottimale. E tra l'altro aggiungerei che i pazienti che oggi si trovano magari a sottoporsi a delle trasfusioni possono stare tranquilli perché la filiera di controllo è altamente migliorata. Per cui queste problematiche oggi, per fortuna ripeto, perché è importante sottolinearlo, credo siano del tutto assenti. Assolutamente, tutti i protocolli, non solo italiani, europei, internazionali, sono assolutamente validati da questo punto di vista, per cui non esiste sostanzialmente più rischio di trasfusione, di malattia trasmessa tramite trasfusione. Insomma, allora, professore, nonostante parliamo di una patologia sicuramente importante, che crea complicanze altrettanto importanti, possiamo dire che quelli che abbiamo dato oggi però sono tutte buone notizie, perché la patologia c'è, non può essere eradicata, perché non può sparire, però può essere tenuta sotto controllo e sotto controllo possono essere tenuti anche tutti quei sintomi che fino a 20-30 anni fa rendevano impossibile, direi, la vita di tutti i giorni. Sì, non solo. Non voglio fare spoiler, ma è giusto farlo in realtà, come dicono i giovani di oggi. Considerate che per l'emofilia B esistono già dei protocolli di applicazione di quella che viene chiamata terapia genica, ovvero di un trattamento che manipola in maniera ovviamente etica e consentita il piccolo gene che l'emofilia B ha come determinante la patologia e abbiamo già pazienti trattati anche in Italia che hanno sostanzialmente eradicato in maniera non definitiva, ma diciamo transitoria, la problematica. Quindi la terapia genica sarà il futuro e su questo stiamo lavorando. A questo si sono aggiunti dei nuovi trattamenti ematologici, quindi ringraziamo sempre la scienza e la ricerca di base, ma anche i nostri ematologi, abbiamo dei farmaci ancora più performanti rispetto a quelli di pochi anni fa. Quindi c'è un fermento incredibile per cui questa malattia rara può essere veramente controllata e di conseguenza quello che ci aspettiamo è che gli ortopedici di questa generazione di cui faccio parte anch'io saremo gli ultimi a dover ricorrere ancora a interventi di chirurgia, per esempio protesica, che sono efficacissimi e sono sicuri, però comunque rappresentano diciamo il fallimento della catena di prevenzione e controllo della problematica. Però sicuramente diciamo abbiamo un futuro veramente erosio. I bambini che nascono ora con emofilia avranno un futuro decisamente molto meno problematico di quello di ora. Allora ringrazio il professor Carulli per tutte queste buone notizie. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi per l'invito. Ippocrate finisce qui. Torniamo come sempre domani alle 13 e 30 su questa rete. Vi aspetto. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.